Allora, i nostri ascoltatori sono stati già convocati per il Waffa Time. C'è la sigla del Waffa Time? Non c'è la sigla del Waffa Time, però abbiamo incominciato questa roba qua. Chi volete mandare a quel paese? Tu ce l'hai, per esempio, uno che vorresti mandare a quel paese, Fabio? Mannaggia, guarda, sono... un minuto esatto che ci penso. Dico... Macron. Vai, così. Macron? Così. Perché è francese? Perché è francese? Così, vai. 068833 033, tra poco presentiamo il libro di Fabio Dragoni, che è venuto qui a presentarlo a più libri, più liberi. La mostra della piccola e media editoria che si svolge qui a Roma, l'Eur. 068833 033 o 040 finale. Patrizia, buonasera. Buonasera, io mi devo mandare a quel paese per dirla... sono una signora. Certo. No, caro dottor Bassetti, proprio non lo posso dire. Attento che quello che lei la faccia, eh? Vabbè, vabbè, io... Hai detto, non ti sa seppatica. Lo mando a quel paese. A quel paese si può fare. Questo si può fare. Perché? Grazie. Perché? Perché prima di tutto ha detto delle parole strampalate su Meluzzi. che Dio lo abbia... che Dio lo assista, che non vedo l'ora che torna proprio, guarda. Ci manca tantissimo. E poi... E dice un sacco di... E a ristacco coi vaccini, perché il vaccino copre, perché è i fragili, i fragili. Io sono fragile, ho più di 80 anni, ma alla faccia sua sono meglio di lui. In bocca al lupo. Ciao Patrizia. Grazie. E' venuto a mente chi mandare a quel paese. Ah, ritiro, ma... Brunetta. Brunetta? Brunetta. Ve la ricordate l'immagine, no? Ah, sì. Ve la ricordate? Ah, sì, è vero, brutta. No, che... Che gli mettono i cubi... Quando magnificava il Green Pass e il... E il tampone superi il naso. Brunetta. Ah, sì, è vero. Brunetta, 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 brunetta. Tutta la vita. Dei ricchi e poveri. Tommaso, buonasera. No, Tommaso è andato. Allora, attenzione, adesso vi spieghiamo perché Fabio Dragoni è qui con... Un po' ve l'abbiamo detto. Dunque, lui ha scritto un libro, che è questo qua, lo facciamo vedere in televisione, Per non morire al verde, salvare l'uomo, per salvare il pianeta, con una controprefazione di Chico Testa. Già ha spiegato che Chico Testa, insomma, che è nuclearista, è stato presidente dell'Enel, se non ricordo male. Esattamente. Presidente dell'Enel non la pensa esattamente come lui, però ha voluto confrontarsi, no? Esattamente. Quali sono le idee principali di questo libro? Le idee principali è che siamo nel mezzo di una follia. Nel mezzo di una follia che significa per tanti di noi tante spese in più. E quindi il mondo non è a norma, secondo chi ci governa, e dobbiamo salvare il pianeta. Ecco, io questa retorica che noi dobbiamo salvare il pianeta proprio non la reggo. Cioè, proprio sinceramente, il pianeta ha 4,5 miliardi di anni, meravigliosamente ben portati, a differenza mia. No, lui se li porta bene, Stefano, i suoi 4,5 miliardi di anni. Quindi non c'è da salvare nessun pianeta, anche perché non c'è nessuna fine del mondo in arrivo, anche perché, come dice Tommaso Cerno, un amico, che saluto, la fine del mese arriva prima della fine del mondo. Quindi non sta in piedi. Quindi questa storia del cambiamento climatico, io so che su questo punto io e Stefano la pensiamo diversamente, ma a me questa storia del cambiamento climatico non convince per niente. E nel libro cerco di spiegare perché non convince per niente. Ma soprattutto non convincono le ricette. Cioè, ma da quando in qua l'uomo modifica il clima? L'uomo può fare questo tavolo, l'uomo può produrre questo bellissimo studio radiofonico, l'uomo può fare tante cose, però l'uomo il clima non c'entra nulla. Dai, via, via, via. Abbiamo tante attività industriali, quindi voglio dire comunque tanti miliardi di tonnellate di CO2 che arrivano all'atmosfera. Però questo è vero, no? Allora, e questo è un altro punto. Questo è vero. Allora, la CO2, l'uomo immette la CO2 nell'atmosfera, che poi chiamiamo la CO2 l'anidride carbonica. E non viene riassorbita. Il problema è che non è che quando si dice eh sì, però contribuisce. È chiaro che gli alberi utilizzano la CO2. Allora, nel libro spieghiamo come. Cioè, uno pensa... Per produrre energia. Io penso che molti di coloro che ci seguono ora da casa pensano che il mondo sia meno verde. Perché io penso che sia diffusa la convinzione che il nostro mondo sia meno verde. Non è vero nulla. Cioè, il nostro mondo diventa sempre più verde. Cioè, diventa sempre più verde. So che può sembrare controintuitivo, ma è così. Il nostro mondo sta diventando sempre più verde. Quindi, più che per non morire al verde, io l'avevo detto al mio editore, ma intitoliamolo moriremo nel verde. Quindi, oggettivamente, il mondo è sempre più verde. È vero che costruiamo di più, è vero che abbiamo un territorio da tenere di conto e spesso non lo teniamo di conto, ma il nostro mondo sta diventando sempre più verde. E quando si dice... Cioè, l'Amazzonia non la stanno disboscando, per esempio. Sì, ma allora, per l'Amazzonia che stanno disboscando, ma anche lì non la stanno disboscando per gusto di disboscarla. La stanno disboscando perché agricoltura intensiva, ce n'è bisogno di agricoltura intensiva, ma veramente il mondo è sempre più verde. Cioè, credimi, il mondo è sempre più verde e ci sono dati inconfutabili. Vedo che ti ho già sconvolto. No, no, no. Vedo, vedo, vedo che ti ho già sconvolto. Quindi il mondo è sempre più verde. E soprattutto, è vero che purtroppo ci sono persone che muoiono di fame, purtroppo, ma stanno diminuendo le persone che muoiono di fame e soprattutto la produttività dell'agricoltura dà da mangiare a tante persone. Quindi, nel libro lo spieghiamo come... C'è il biologico, a tutti piace il biologico, per l'amor di Dio, a tutti piace il biologico, però noi non possiamo fare a meno dei fitofarmaci. C'è, nel libro ne parlo, c'è un caso dello Sri Lanka. Lo Sri Lanka, che è un paese che è quello che è, però cresceva ad un ritmo del 5-6% l'anno. Dal 2019 si è messo in testa di fare tutta agricoltura biologica. Il risultato, sapete qual è? Si è dimezzata la produzione di riso e in un anno l'economia dello Sri Lanka è crollata dell'8%, quando l'economia mondiale cresceva del 10% e sono costretta ad importare il riso. Quindi, a mio parere, in questo libro vi divertirete, perché è un libro divertente, si legge facile, si legge veramente facile, stile godibile, sto facendo l'oste che dice che il vino è buono e poi è un libro fantastico. Vabbè, non te lo tolgo dal microfono. Perché vedete, guarda, potete fare così, si piega, cioè quale altro libro non si piega? Lo potete mettere sotto. No, quello no. Come per Zeppa e quindi mi sono divertito molto e ci si diverte molto a leggerlo, come dice anche Chico Nesta. e quindi ovviamente ve lo consiglio. Momento Mastrota finito. No, Chico Nesta che tra l'altro è amico del professor Mario Tozzi che viene invocato in questo momento. Eh, nel libro molto spesso. Domani sarò con Chico Nesta alla fiera della piccola editoria, piccola e media editoria, ma diciamo la scelta di Chico Nesta è stata che Chico Nesta concorda con me per un 60-70%. E ovviamente ho chiesto proprio a Chico Nesta di scrivermi questa controprefazione perché volevo proprio avere una persona con cui confrontarmi. Però ripeto, vi divertirete. Oh, meno male, sono contento. Allora, è chiaro che insomma sul discorso dell'aumento di CO2 ha portato all'aumento della temperatura. No, no, è chiaro che non si possono fare i discorsi basati su una giornata, un mese, eccetera, eccetera. Ci sono delle statistiche che vanno indietro di 200 anni, 220 anni, anche di più, perché poi si possono fare anche le pali o temperature. Io contesto il principio che l'uomo debba fare cose per modificare il clima. Cioè, questa cosa non mi convincerete mai. Ma non mi convincerete mai. Ma scusami, ti faccio questa provocazione, Stefano. Vai. Quante volte in vita tua hai dovuto rinunciare a fare una cosa perché le previsioni meteo per il giorno dopo mettevano pioggia e poi invece... Perché non c'erano computer abbastanza potenti. Però, allora, noi, noi che talvolta succede non riusciamo a prevedere il meteo per il giorno dopo, vorremmo prevedere il clima fra 50 anni, fra 100 anni, se facciamo delle cose. Ma non ha senso. Non ha nessun senso. E allora obbligare a comprare l'auto elettrica? Ma quando mai, se io compro l'auto elettrica, smette di piovere o piove? Cioè, io contesto questo principio, cioè che l'uomo modifichi il clima. L'uomo non modifica il clima. Cioè, erano i danzatori della pioggia che facevano la danza della pioggia. Dai, ti ho convinto. No. No. No, nel senso che poi, allora, io sono d'accordo con te contro le esagerazioni e contro soprattutto delle esagerazioni che, come dice Tommaso Cerno, ci impediscono di arrivare a fine mese. Questo è chiaro. Soprattutto perché, insomma, se ho un reddito alto, ma che me frega, mi posso comprare la Tesla senza nessun problema. Se invece ho un reddito medio-basso, manco la 500 elettrica, mi posso comprare. La panda è elettrica, la panda è ibrida. Però vedi, io ti dico questo, che se uno si preoccupa delle sorti del pianeta, vuol dire, scusate il termine, che non ha un cazzo di cui preoccuparsi. Perché, voglio dire, ci sono tante le cose di cui uno si preoccupa della salute, giustamente l'amico prima chiamava per la coronografia. Cioè, chi si preoccupa delle sorti del pianeta? Cazzo, vuol dire che è l'uomo più fortunato del mondo che non ha problemi di soldi, che non ha problemi di salute, che non ha problemi familiari. Io lo invidio. Lo invidio. Chi si preoccupa della fine del mondo senza preoccuparsi della fine del mese.